buonasera a tutti che bella posso dire che bella sala che siete tanti credo che che sarà una bellissima serata per merito di questo libro mi sentite io penso che un benvenuto è un applauso di benvenuto a benedetta cibra così questa sala oltre a vederla la sentiamo anche scusate lo dico da lettrice ma anche la persona che passa ormai una ventina di ore al giorno ma poche di meno in questo posto continua a meravigliarmi vedere la sala piena dopo tanti mesi che tutti conosciamo quindi permettetemi questa notazione di stupore di meraviglia e di e di speranza allora per ogni parola perduta è un libro che innanzitutto vi consiglio caldissimamente di leggere perché è un libro che avvince nel senso più pieno della parola come ho anticipato a benedetta vorrei cominciare a raccontarvi ma soprattutto a dare spazio e voce a lei per raccontarci questo libro da una considerazione personale e anche fondamentalmente profondamente emotiva che per me è partita dal quasi inconsapevolmente dalla copertina io ho letto le bozze quindi la copertina più diciamo più definita come grafica già questa copertina in bozze mi ha come dire guidato verso l'emozione che adesso vi dirò e poi sin dalle prime pagine questa emozione è stata confermata mi permettetemi questa nota personale nel mondo ebraico la definizione e l'immagine primaria del lutto è lo strap quando muore qualcuno che fa parte di te in quel dna fisico ma soprattutto sentimentale di famiglia il gesto primo è quello di qualcuno che prende il bavero della tua giacca o della camicia e fa materialmente uno strap perché il lutto la perdita l'assenza il vuoto che lascia una vita che se ne va è esemplato raccontato da uno strappo uno strappo che in ebraico si chiama keria che è veramente sinonimo del lutto del perdere un affetto ma lo strappo è anche qualcosa che si ricuce che non è indelebile che in qualche modo chiama il fatto che quello che ti succede perdendo qualcuno è terribile è silenzio ma che viene prima di tutto la vita e la vita ricomincia ricucendo questo strappo e non vi dico esattamente perché questo libro mi ha coinvolto per questo sin dall'inizio potentemente però non vi svelo più di tanto perché il romanzo va letto vi posso dire che per me è stata un'esperienza di scoperta partecipazione e ed esserci sentire questo libro profondamente nelle fibre personali perché all'inizio di questo libro e alla radice di questo racconto c'è un lutto anzi ce ne sono due sofia ed edmund che sono i protagonisti insieme ad altri ma insomma coloro che innescano la storia innescano questa storia partendo da un'assenza anzi da due assenze chiudo la parentesi personale per provare a raccontarvi da lettrice che cos'è stato che cos'è stata l'esperienza di questo libro e che cosa mi auguro sia per tutti voi tutti coloro che l'hanno letto e spero lo leggerà cosa non è questo libro non è una cosa che è molto comune in questo periodo e che forse non è ancora chiaro quanto questa abitudine letteraria sia il frutto di una vera ispirazione e non invece l'adeguamento a una cosa che vorrei chiamare moda ma non è proprio una moda sto parlando dell'autofiction che è una cosa che non saprei esattamente come come definire ma che leggete molto spesso più o meno inconsapevolmente l'autofiction è scrivere un romanzo che in realtà è il prodotto di un'esigenza personale ma che si trasforma in un racconto del sé che forse in molti casi è anche un limite ecco questo libro non ha questo limite non è autofiction è un romanzo nel senso più classico e oggettivo e lo dico come una cosa che è il frutto di talento cioè la capacità di oggettivare la narrazione è propria di chi è un vero romanziere non è neanche una saga familiare che anche questo è un genere molto praticato ma non è neanche esattamente il contrario di una saga familiare perché in questo libro di famiglia si parla molto di famiglia e di sentimenti che e di esperienze intime legate al fatto di far parte di una famiglia ecco questi non sono per me dei grandi valori aggiunti del libro e sono convinta che lo saranno anche per tutti i lettori che ancora non hanno letto e leggeranno questo libro cerchiamo di dare qualche diciamo essere più sul pezzo insomma raccontare quel tanto che basta per non invogliare perché credo che qui non ci sia nessuno che non ha voglia di leggere questo libro se non l'ha già letto al centro di questa storia ci sono due giovani donne molto particolari con una storia molto complessa alle spalle anche nei rapporti familiari mi è piaciuto moltissimo il modo in cui affronti la maternità o la genitorialità vedendola nello specchio di questi due protagonisti perché è un modo molto non convenzionale di vedere i rapporti della famiglia e soprattutto il lascito che le famiglie danno a queste due giovani donne che hanno alcune similitudini fra loro ogni tanto hanno la capacità quasi la necessità di specchiarsi l'una nell'altra però è anche vero che sono due personaggi ben distinti diversi con una propria identità molto molto netta io vorrei dire che in realtà questi due queste due donne sono due anime gemelle è come se sin dall'inizio da questo strappo si andasse verso un destino che chiamava queste due donne queste due giovani donne che vivono in posti lontani uno dall'altro che hanno esperienze di vita diverse lingue diverse però che erano in qualche modo destinate a incontrarsi e poi cosa abbiamo poi abbiamo un grande collezionista che è una figura un po' nell'ombra ma in fondo è il deus ex ma ex macchina di questa storia abbiamo una mongolfiera una mongolfiera da rattoppare possiamo dire così che è ciò che innesca materialmente il confronto l'incontro fra queste due donne poi permettetemi di aggiungere due brevi cose ancora prima di lasciare la parola all'autrice con una cosa che è una specie di domanda c'è un luogo cruciale in questo ce ne sono tanti di luoghi in questo romanzo ma c'è un luogo cruciale che è un luogo a cui personalmente come circolo siamo molto legati che i chamberi che sta dall'altra parte di queste montagne che sono un valico da varcare ma sono anche un mezzo di comunicazione il nostro leitmotiv in questo autunno qui al circolo è stato questo festival che si chiamava perché è finito vis-à-vis organizzato insieme a chamberi in nome di Jean-Jacques Rousseau per ripensare l'umanità, il mondo, l'ambiente, l'Europa come ecco è una cosa che io cito sempre ma che anche qui secondo me è congeniale e George Steiner che è stato un grande intellettuale europeo diceva che l'Europa è l'unico continente tutto camminabile cioè puoi attraversarlo a piedi, è lunga, faticosa ma si può fare, non ci sono altri continenti che hanno questa virtù questa dimensione dell'umano che cammina e lo attraversa e lo conosce ecco anche in questo libro c'è tanto camminamento tra un luogo e l'altro, tra tempi, momenti diversi della storia e anime diverse che si incontrano e quest'idea di parlare qui di un libro che ha il suo cuore chamberi con quello che abbiamo raccontato in queste settimane che questi mesi da settembre in poi la trovo una magnifica combinazione ecco e poi c'è un'altra un'ultima cosa che vorrei dire che può sembrare riduttiva ma credetemi tutto il contrario io una delle cose più belle che ho visto in vita mia, ve lo assicuro, è una macchina da maglieria con una di queste donne straordinarie che sanno manovrarla una macchina da maglieria è una specie di arpa con moltissime corde e questa eccellenza, io l'ho vista in particolare in Emilia Romagna intorno a Carpi che è questo triangolo della moda e di una certa imprenditoria femminile del dopoguerra che si è affermata al femminile sul lavoro della maglieria credetemi è uno spettacolo meraviglioso di mani, cuore, testa e non so cos'altro in cui queste donne manovrano queste corde per creare il tessuto il tessuto che in questo caso è la maglieria questo tessuto fatto di trama e ordito è di una danza, di una danza complessa che solo loro conoscono e che crea la maglieria nel senso più artistica è veramente un'arte, lo dico con un'ammirazione e ritrovando lo stupore che sentì allora guardando queste donne all'opera ebbene questo libro è questa cosa qui cioè è un tessuto complesso di trama e ordito con una trama e una capacità di mettere insieme tempi diversi, cose diverse come dire il collezionismo d'autore una mongolfiera, lei avrebbe potuto raccontarci una storia così su oggetti d'antiquariato magari più comuni, più facili da interpretare, da raccontare invece c'è una mongolfiera, una mongolfiera d'epoca ecco, lo stupore e l'ammirazione che ho provato vedendo queste donne lavorare con l'arte con la maiuscola su una macchina da maglieria è la stessa, io spero che non risunti riduttivo ma è veramente di grande ammirazione nel vedere, costruire pagina dopo pagina questo romanzo che diventa un tessuto complesso ma sempre armonioso in cui tutto torna sempre al lettore e non è difficile da seguire proprio perché c'è l'arte di costruire storie con la complessità e la passione che conobbi allora e che ho ritrovato in questo libro la domanda si impone, come hai fatto? Buonasera, che bello vedervi qui come ho fatto? allora, non è affatto riduttivo sentire paragonare il modo di scrivere il modo che ho di scrivere a una macchina da tessitura perché è esattamente così che io ho sempre pensato la mia scrittura io lavoro così, io vado avanti, torno indietro ogni giorno, prima di ricominciare a scrivere io torno indietro nelle pagine giallette mi segno qualche cosa che trovo nelle pagine giallette e immagino come potrebbe essere messo più avanti io ho continuamente questa sensazione di andare avanti e indietro proprio di tirare insieme dei fili io faccio parte di quegli scrittori che non sanno nemmeno come si fa a scrivere non dico un racconto, un romanzo ma nemmeno un paragrafo se prima mi faccio la scaletta per me tutto sta in questo entrare il più possibile dentro la materia di quello che voglio raccontare e cercare il modo per poterlo rendere agli altri allora io vivo a Londra, due settimane fa sono andata a vedere una mostra di Cézanne e c'è a un certo punto una frase di Cézanne che mi ha proprio fulminato quando Cézanne dice che in realtà chiunque di noi abbia bisogno di trasformare un concetto, un pensiero e di fare in modo che questo concetto, questo pensiero arrivi ad altri in realtà deve interrogarsi sulla tecnica perché la tecnica è l'unica cosa che ci consente realmente di trasmettere un pensiero, un'emozione, un sentimento, un'idea e questo lavoro sulla tecnica è quello che più due sono le cose che mi appassionano nella scrittura uno è un'assoluta e totale fiducia nel romanzo si è detto tanto e si è sentito tanto dire che il romanzo è morto per molti il romanzo è morto, per me il romanzo è vivissimo e certo non può più essere un romanzo classico nel senso tradizionale ma d'altra parte fa parte, come dire è il nostro modo di leggere il mondo che è via via più complesso se non più complesso il nostro modo di leggere il mondo è determinato da come il mondo noi lo sperimentiamo dunque tecnica, incastro, arazzo, tessitura tener presente la trama e l'ordito è anche faticoso scrivere così ma è anche estremamente coinvolgente io poi ci entro dentro, mi perdo, faccio fatica a uscirne e in qualche modo poi so che l'unico modo per uscirne è aver presenti appunto i fili da tirare, da tendere e da trovare perché la mongolfiera? cosa c'entra? vi chiederete intanto questa è la mia quarta presentazione e io pensavo che la mongolfiera fosse un oggetto assolutamente raro ogni volta che vado a fare le presentazioni scopro sempre qualcuno che mi viene a dire che ha volato in mongolfiera io non credevo, non so se tra voi c'è qualcuno ecco, c'è già un signore che ha volato in mongolfiera e in realtà perché la mongolfiera? allora devo fare un passo indietro vi devo raccontare brevemente la genesi di questo romanzo che parte in realtà in un modo lontanissimo dalla mongolfiera allora, io vado nel settembre del 2020 a fare un viaggio in Russia con degli scrittori pensavamo tutti, credo che saremmo finiti a Mosca e a San Pietroburgo in realtà ci troviamo a Krasnodar e a Sochi cioè alle pendici del Caucaso il viaggio è diverso da quello che ci aspettavamo e tuttavia alle pendici del Caucaso a me non so perché viene in mente così per quei strani corti circuiti io non so perché mi è venuto in mente mi viene in mente Savia de Mestre avevo letto il viaggio intorno alla mia camera e mi viene in mente, torno in albergo faccio un po' di ricerche e scopro che da quelle parti se non proprio a Krasnodar ma lì vicino insomma alle pendici del Caucaso Savia de Mestre ci arriva e tra l'altro io all'epoca nella mia ignoranza pensavo fosse francese scopro che è Savoiardo e comincio ad appassionarmi a questo personaggio anche perché di tutta la parte della vita di Saviae che poi si svolge in Russia perché tra l'altro Saviae parte a piedi da Torino il primo tratto lo fa a piedi e poi in qualche modo a cavallo arriva fino in Russia a San Pietroburgo per lui la Russia diventa un destino tuttavia io non so fare le biografie non sono una biografa pensavo di essere in grado ma non sono capace quello che so fare mi piacciono le vite degli altri mi piace immaginarle e scriverle e d'altra parte l'altro tema che mi è caro da sempre era da tempo che pensavo che avrei voluto avere come personaggio una persona che si occupasse di restauro perché il restauro se ci pensate è una cosa importante siamo tutti ammaccati dalla vita basta vivere ti ammacchi e in realtà che cosa vuol dire restaurarsi il restauro oggi mi raccontano mi dicono che i restauri in Francia per esempio sono dei restauri che ricostruiscono completamente le nostre scuole di restauro in Italia e anche in Inghilterra sono invece delle scuole di restauro che lasciano le lacune lasciano gli strappi si devono vedere le cicatrici e allora questa immagine che le cicatrici ci si devono vedere perché sono parte di noi perché noi diventiamo quello che siamo anche con le batoste gli ammaccamenti che riceviamo continuamente dalla vita mi sembrava una cosa importante come legare queste due cose e improvvisamente scopro che Saviede Mestre è a quanto so il primo e unico scrittore ad aver volato su una mongolfiera a fine settecento e da lì ho cominciato a pensare che queste due cose si potevano collegare ecco mentre ti ascoltavo mi veniva in mente un'altra cosa che e qui poi viene una domanda e forse ne vengono due il libro è un libro che non definirei propriamente a lieto fine in senso classico ma certamente è un libro rasserenante è una storia complessa con tanti personaggi tante ere storiche diverse però è un libro che alla fine ti apre gli orizzonti ti dà non ti lascia nulla di amaro nulla ecco a fronte di questo all'inizio del libro come dicevo ci sono due strappi potenti due lutti due assenze ecco questo passaggio da un inizio in cui che in realtà poi li definisci pian piano questi strappi all'inizio non sono te ti fa scoprire la la narrazione ecco l'idea al di là di esplorare il viaggio in mongolfiera di un intellettuale del settecento questo inizio questa partenza del romanzo da due mancanze da due dolori profondi è qualcosa che che è venuto strada facendo o è in qualche modo una fonte di ispirazione la fonte di ispirazione no è senz'altro la fonte di ispirazione e soprattutto il lutto principale di cui si parla in questo romanzo e non faccio nessuno spoiler perché se ne parla nelle prime pagine e quando Sofia che è la restauratrice che è una ragazza nata e cresciuta a Torino anche se noi non nominiamo mai Torino in realtà lei si trasferisce l'Inghilterra a Oxford dove dove diventa restauratrice diventa restauratrice e Sofia è una ragazza complicata è una ragazza che è una cultrice della distanza un rapporto complicato con la sua famiglia ma in questo come ha detto giustamente Elena in questo romanzo tutti hanno dei rapporti un po' complicati nelle famiglie ma questo è un dato di fatto di tante famiglie e Sofia ha questo grandissimo amore che è Nicola e Nicola ha un incidente e muore ecco io se permetti mi piacerebbe leggere posso leggere il pezzo di Nicola? ecco io vi vorrei leggere questa paginetta di Nicola mi chiamo Nicola Obreskov e sono morto questa mattina è stata una sorpresa credevo che sarebbe stato un giorno come gli altri un po' più faticoso forse perché mi sono svegliato all'alba in tempo per prendere un aereo e ho dormito poco in volo colpa di una turbolenza che ci ha fatti sobbalzare dal decollo al rarrivo nessun preavviso che un giorno cominciato come tutti gli altri potesse essere l'ultimo nella sua normalità rassicurante non avevo notato nulla di sospetto anzi tra un cumulo e l'altro di nuvole da cui l'aereo entrava e usciva sobbalzando ho potuto vedere un bel cielo limpido tinto di rosa e mi è sembrato il modo giusto di vedere le cose tra squarci di sole e nuvole scure si vola e si vive sono atterrato in orario ho preso l'autobus mi sono appoggiato al finestrino per dormire non so quanto tempo è passato prima che l'autista perdesse il controllo e l'autobus schizzasse impazzito come un giocattolo ho battuto contro il vetro un colpo alla nuca improvviso e rapido non me ne sono nemmeno accorto ho in tasca il portafogli con i documenti la tessera del dipartimento e quella della biblioteca il passaporto la polizia stradale sa già chi sono e dove abito andranno a casa nostra e chiameranno la segreteria del collegio parleranno quasi certamente con Trevor il mio amico Trevor uno studioso coi fiocchi il suo saggio sugli anni di Turgenev a Parigi è un capolavoro è Trevor il risolutore di problemi al dipartimento un cattolico praticante a cui preme il benessere del greggio Trevor andrà da Sofia le dirà che la vita è preziosa perché è fragile e che non conosciamo tutte le risposte ed è questo a renderla complessa lo dice da storico e da cattolico trevor tiene a far coincidere alla perfezione quello in cui crede con quello che fa da storico sa benissimo che il nostro rapporto con la storia è ambiguo per definizione che il quadro generale è sempre suscettibile di interpretazioni e che la verità che cerchiamo è quasi sempre al di là della nostra portata facciamo luce come possiamo lui continuerà io ho smesso avevo 25 anni quando sono arrivato a Oxford come studente di dottorato con una laurea in storia e una discreta conoscenza della lingua russa più o meno l'età che avevano i genitori di mio nonno quando hanno comprato due biglietti per andare da San Pietroburgo in America dove non sono mai arrivati viviamo tutti così continuiamo a comprare biglietti convinti di andare da una parte ma c'è sempre il rischio di finire altrove il mio ce l'ho in tasca con scritto Gatwick Oxford corsa singola valido per un solo viaggio qualcuno dovrebbe dire alla compagnia degli autobus che se un semplice biglietto può essere preso come una profezia qualcosa è andato storto avrebbero dovuto far controllare i freni o il tasso alcolico dell'autista o il suo elettrocardiogramma sembra una cosa stupida da dirti Sofia ma è inevitabile avrei voluto che durasse e non dare retta a Trevor se ti dice quella cosa che la vita è preziosa perché è fragile la vita è preziosa perché è luminosa perché è oscura perché è difficile perché è breve perché è lunga perché è densa perché è capricciosa perché è solitaria perché è caotica perché è tua ma la fragilità non c'entra niente la vita è vita e nient'altro la fragilità non c'entra niente e Sofia ce lo dimostrerà tutto questo perché il racconto che Benedetta fa del trauma dello strappo è tanto pregnante quanto quello che segue cioè il fatto che a un certo punto della sua vita Sofia come dire contraddice la fragilità riprende a vivere e a rappezzare e a rattoppare in particolare questa mongolfiera dopo alcune insistenze da parte del committente di questo lavoro e tutto questo la porterà a Chambéry e a poco a poco lei e insieme a lei la sua lettrice il suo lettore i suoi tanti lettori scopriranno quanto poco è fragile lei e quanto la vita è tutto quello che racconti in queste righe in particolare in quell'elenco di cose che è la vita ma è anche e forse soprattutto la capacità di ricucire gli strappi sì ricucire gli strappi ma quello che è importante è che gli strappi non è che ce li ricuciamo da soli cioè sono necessari gli incontri anche casuali anche con persone che magari da cui non ci aspetteremo assolutamente niente questo è un romanzo in cui si dice quasi a ogni paragrafo che in realtà noi siamo fatti per interagire l'uni con gli altri e non importa se siamo diversi se non ci conosciamo se parliamo lingue diverse se le nostre vite si toccano in un momento per poi allontanarsi di nuovo dall'incontro con l'altro viene sempre fuori almeno una possibilità almeno come dire il pensiero ecco il pensiero l'indicazione che ci si può provare si può provare a non mollare ci si può non ci si può aggiustare ma ma ci si può rimettere in carreggiata si possono percorrere tante strade ci sono tanti fili nelle vite di questi personaggi che possono essere riannodati che portano lontano e lontano si arriva qui perché il romanzo si sposta da Torino a Schomberi a Oxford e seguendo con il racconto della vita di Xavier si arriva anche in Russia e mappe di tempo e di geografie perché si va si va indietro nel tempo e si sta nel presente e si sta chiusi in un luogo come Sofia come Pauline la sua libreria di libri vecchi antichi libreria sull'orlo del fallimento in una città chiusa come Schomberi e tuttavia un crocevia Schomberi è un crocevia un crocevia di strade sempre strada un luogo di passaggio ecco questa è questa è un po' la mappatura di questo romanzo tra luoghi piani personaggi incontri e per tornare a quello che diceva Elena è un arazzo è una tessitura tale proposito io avrei una domanda poi magari lasciamo anche al pubblico la possibilità se sei d'accordo di chiedere di di dire la domanda è molto semplice ma quanto hai studiato? Beh quella per me la parte è una parte emozionante e divertente sì ho studiato perché io di mongolfieri non sapevo assolutamente niente e di mestre sapevo poco e eh tra l'altro se c'è qualche francesista in sala è molto molto affascinante quello che lui fa una volta che va a San Pietroburgo perché non si sa nulla io quando ho cominciato a pensare di fare questo di studiare questo romanzo avevo bisogno di avere accesso agli archivi russi ma era era prima del del covid quindi avevo mi ero messa in contatto con un italianista di Mosca bravissima e l'idea era di andare lì a cercare eh perché la cosa interessante di Saviede Mestre è che in realtà lui era amico dei genitori di Puskin una sua sua moglie era zia della Natalia Puschina la moglie di Puskin e in realtà io mi sono resa conto che c'è tantissimo lì e la mia eh poi è venuto il covid e la mia ricercatrice non poteva neanche lei andare più in biblioteca a Mosca quindi abbiamo fatto un po' quello che abbiamo potuto però sì ho studiato tanto ma è stato anche un momento molto appassionante e divertente ho studiato tanto ma mappando il tuo percorso di studio a priori o lasciandoti portare in qualche modo dalle protagoniste sostanzialmente nello studio no questo è un po' lo stesso sistema che ho usato anche nei romanzi precedenti cioè io mi faccio un'idea di che cosa voglio far fare ai personaggi e dove voglio portare la storia poi mi rendo conto di non saperne abbastanza allora studio e alterno le giornate tra scrittura e lettura insomma questo è un po' uno schema che che funziona e che mi è congeniale tra l'altro nessuno può scrivere troppe ore al giorno quindi questo mi consente anche di alternare i tempi e poi devo anche dire che ho trovato tantissimo materiale online insomma quindi quello è stato fondamentale perché tornando a quello che dicevo prima sul fatto che quello che non è questo libro cioè non è autofiction e questo guarda per me è tanta roba come si diceva in italiano perché mi capita non so se capita anche voi come lettrici lettori ma mi capita così tante volte di aprire un romanzo italiano straniero e di avere delle aspettative diciamo di io credo che la lettura sia essenzialmente un piacere e quindi delle aspettative di un'esperienza di scoperta che poi a un certo punto si come dire si infrangono si infrangono delle onde contro la sensazione sempre più nitida che l'autrice l'autore in questione in realtà stia parlando di se stesso e per se stesso il che può anche far sortire delle opere di una prosa d'arte magnifica ma non è quello che io che forse sono ancorata modelli di romanzo di lettura di piacere della lettura tradizionali ma pur sempre comunque efficaci e tante volte appunto non è una forma di delusione in senso stretto ma è certo è l'incontrare qualcosa che a forza di leggere ti aspetti che in qualche modo però ti lascia un po' di sapore amaro ecco quando io dicevo prima che per me l'oggettività della scrittura è un grande valore aggiunto la potrei volgere adesso anche in questo aspetto della tua narrativa e in particolare di questo libro cioè la capacità di intrecciare quella cosa che è ambigua come è stato detto che è la storia grande con le storie personali cioè qui al di là dell'ispirazione di partenza della scoperta di questa mongolfiera e del lavoro di ricerca storica che hai fatto l'altra cosa che mi interessa sapere spero anche a voi è come facevi poi una volta raccolte queste questi dati storici a innestarli in quel tessuto che è una storia anche e ci tengo a ripeterlo profondamente personale qui si entra dentro l'animo di due giovani donne e non solo loro come avete potuto sentire da quelle da quelle righe strazianti ma così vere di una persona che da un momento all'altro perde la vita senza ovviamente saperlo prima senza che nessuno possa immaginare che accada una cosa del genere come come procedi poi a innestare questa questa metodologia storica di ricerca e di approfondimento nelle storie dei personaggi e come hai fatto in particolare in un romanzo come questo che è una storia anche profondamente intima no? ma di solito io quando studio e faccio un po' di ricerche in realtà senza rendermene conto lavoro sempre almeno a due livelli una parte è prendere delle informazioni necessarie in modo da non scrivere in esattezza perché mi dà fastidio insomma se ci sono delle cose imprecise d'altra parte però mi rendo conto che lavora sempre ad un secondo livello e quindi evidentemente io recepisco delle suggestioni non è che non succedano dei giorni in cui tu ti siedi alla scrivania e non riesci a scrivere neanche una riga ci sono e come però in quei giorni in quei giorni là io mi dico sempre se non è il momento della scrittura è il momento della lettura nel mio caso è il momento dello studio e sempre in qualche modo questa cosa mi ricarica poi come si fonde questo non lo so fa parte di quei meccanismi di immaginazione che a un certo punto scattano in opera io ho sempre la sensazione che quando sei stato abbastanza a scrivere quando hai scritto abbastanza e fatemi dire quando hai buttato abbastanza a un certo punto in realtà poi la macchina parte e tu senti che la macchina è partita però esattamente se ti dovessi dire se vi dovessi dire se io ho un metodo per incastrare queste cose no un metodo non ce l'ho io sono una narratrice assolutamente distinto la cosa che vi dicevo prima non è una come dire non è un'inesattezza io davvero non ho mai fatto una scaletta non la so fare se io faccio una scaletta è sicuro che non scriverò quello che ho messo giù in scaletta perché è come se tutto dovesse stare in un modo molto nebuloso nella mia testa senza neanche pensarci troppo e poi a un certo punto io so che si aprono perché io me lo immagino proprio così come se fossero delle specie di porte interne di sinapsi non so che cosa sono che si aprono e a un certo punto io accedo alla materia che voglio raccontare e cerco di mantenere il grado di consapevolezza così stand by sono consapevole di quello che faccio ma non voglio neanche troppo essere analitica perché sono convinta che in qualche modo la scrittura poi abbia un beneficio da una sorta di così di non essere troppo categorizzata di non essere troppo analizzata la lascio un po' così questo si percepisce nel libro e ci percepisce anche per una cosa che adesso ripeterò che però mi sembra importante ribadire ma non di improvvisazione in questo libro in generale nella tua scrittura non c'è mai quella cosa che spesso viene confusa con l'ispirazione ma non è la stessa cosa improvvisare la scrittura improvvisare una trama non ha nulla a che vedere con la forza dell'ispirazione cioè della necessità del bisogno della gioia di scrivere ecco la sensazione che ho avuto io una delle tante sensazioni che ho avuto leggendo questo libro è anche la gioia della scrittura che non vuol dire che le cose ti vengono così via come va va mi diverto non è il divertimento è tutta un'altra roba ed è il motivo per il quale pur essendo un libro dove ci sono mettiamola così delle cose tristi dei lutti delle perdite della solitudine perché quello che Sofia riesce a superare e che tu ci spiegavi attraverso la consapevolezza che nulla si fa e si risolve senza gli altri quello che Sofia riesce a superare è l'abisso della solitudine in cui ti porta al luto che è anche quello che spinge Edmund a comprare quella mongolfiera perché anche lui è il frutto è la vittima è il protagonista di uno strappo tremendo che passa un po' in sordina ma c'è direi non meno intenso e non meno come dire fondamentale alla storia rispetto a quello di Sofia che viene più raccontato ma anche per lui c'è qualcosa che strappa la vita ecco nonostante tutto questo ribadisco che può sembrare ancora una volta riduttivo ma non lo è affatto la sensazione di serenità che questo racconto lascia un po' perché ci mette tutti in bilico sulla storia ci fa sentire tutti consapevoli del fatto che noi abbiamo che nella nostra vita c'è qualcosa di più grosso che è la grande storia e quindi questa mongolfiera era questo luogo dove Sofia arriva per lavorare di ago e filo vorrei quasi dire oltre che di ricerca e capire come lavorare di ago e filo attraverso i libri è quello che deve imparare e sapere sulla mongolfiera però quello che ha forse anche di terapeutico per lei e che in qualche modo stende apre le porte all'amicizia che si instaura tra lei e Pauline è la consapevolezza rasserenante tutto sommato che noi siamo piccoli anelli di una grande storia che può sembrare vertiginoso e farci paura ma in realtà che ci dà una sorta di laica serenità laica accettazione di quello che siamo e di quello che un giorno tutti non saremo più perché quello è il destino che ci tocca io avrei un'ultima domanda o considerazione da farti e cioè tu sei uno di quelli scrittori o scrittrici di quelle scrittrici che una volta finito un libro hanno come dire la sensazione che questo sia non dico che sia l'ultimo ma per un po' ho detto tutto quello che avevo da dire o scrivere un libro vederlo vedere l'oggetto che diventa il destino a cui va incontro attraverso gli occhi dei lettori è una è un come dire è un motore che ti fa dire non vedo l'ora di cominciare un altro ma io in realtà per quanto i miei romanzi siano abbastanza diversi tra di loro tuttavia penso che c'è sempre questo filo che li unisce c'è sempre il rapporto del sindaco con la storia c'è sempre il modo in cui non ci rapportiamo al passato e c'è sempre questa specie di consolazione cioè per me il mio concetto di la cosa che mi rende più serena è questo voltarmi indietro e vedere le generazioni che mi hanno preceduta la storia che mi ha preceduta mia dell'umanità questo mi rassicura perché ho come la sensazione di essere qui in questo momento in un segmento di tempo che parte da lontanissimo e arriverà lontanissimo è come se fosse un'immensa marcia a cui tutti apparteniamo tutti insieme e questo per me è il senso del mio amore per la storia del mio amore per il passato perché per me il passato è la lente che mi consente di mettere a fuoco la mia idea di futuro e questo credo che sia una costante in tutti i romanzi che ho scritto lo dico perché io ogni romanzo è parte di questa è parte di questa strada quindi se la domanda è ho già in testa un'altra cosa e ho voglia di mettermi a scrivere la risposta è sì e come perché è proprio questo senso di continuare questo discorso attraverso i romanzi attraverso le cose che scrivo e attraverso anche le riflessioni che uno fa mentre scrive insomma